ma abbiamo l'evento del 19 che non dobbiamo lasciare indietro dici dove l'evento è ovviamente gratis come detto bene tu prima è in borsa italiana quindi dentro la sede di borsa italiana abbiamo una stanza disponibile lo vedete scritto i posti sono limitati quindi registratevi e come ho detto prima vi contatteremo per essere sicuri della vostra partecipazione iniziamo l'evento inizierà alle 2 ovviamente vi raccomandiamo di arrivare un po prima così iniziamo con a farvi a farvi accomodare in sala dalle 14 alle 18 sarà appunto una puntata di investi b on the road live quindi l'abbiamo fatto anche altre volte vogliamo riproporlo ovviamente ci sarò io ci sarà jacopo per per fontobel ci saranno riccardo e pietro e poi abbiamo ovviamente come al solito dei trader che partecipano sempre di investi b che ci accompagneranno quindi il mago toni cioli puviani nicola para dietro pacello e sante pellegrino quindi siamo siamo in tanti passeremo appunto una giornata come come piace insomma a chi ci segue parlando di di mercati facendo vedere appunto le varie strategie dei trader magari qualche pillola ovviamente a livello di educational per spiegare i prodotti soprattutto se ci fossero domande siamo lì apposta quindi dalle 14 alle 18 seguiamo ovviamente l'apertura del mercato americano mostriamo un po le strategie dei capitani e dei trader e poi dalle 18 abbiamo anche un aperitivo in borsa italiana quindi rimaniamo in borsa italiana un aperitivo e due chiacchiere e speriamo insomma di passare di passare una bella giornata e anche un'occasione insomma per vedersi per stare insieme che è qualcosa che noi insomma stando qui in germania facciamo purtroppo raramente quindi sicuramente è una bella una bella occasione vi aspettiamo registratevi se come ho detto prima non volete lasciare il numero di telefono noi l'abbiamo messo obbligatorio per avere appunto un contatto sicuro per assicurarci della vostra presenza se non volete potete anche appunto scriverci una mail o chiamarci e provvediamo poi a registrarvi in maniera diversa ecco sbrigatevi perché i posti sono limitati e già abbiamo ricevuto diverse diverse iscrizioni fino fino adesso grazie a tutti